Ciao a tutti, oggi è domenica 22 luglio 2018, siamo qui a Villa del Foro, stiamo facendo colazione, qui abbiamo il professor Manzini, salve a tutti, siamo in posizione di relax questa volta, mi presenti i tuoi amici? Mario, Giulio, Antonello, papà di Giulio, papà di Giulio, Andrea, bene, una bella compagnia, è una tradizione di questo club, è un club degli amici, pensavo club delle bambole, prossimamente, prossimamente, prossimamente avremo, anzi avrà, perché è un'iniziativa, perché abbiamo un cultore? è un'iniziativa, diciamo un imprenditore, è un imprenditore, no, no, è legale, comunque vedo che l'appetito non manca, no, infatti, quello lì cos'è, cortese? Sì, sennò sembra, è questo il grignolino, la bottiglia con con quel ambrato, con lo scuro lì, è un bel colore, sì, è buono, è molto buono, molto buono, a me è sempre piaciuto il grignolino, è dedicato un grignolino, Marcinkus, un commento su questa mattinata così, desueta, una mattinata per me, alla Bresaola, pronti? Ecco qua, sparita, sparita, giustamente, va bene, mastica bene, eh? Bresaola della martellina, senti le risate dei commensali, c'è Marcinkus, mi ha scritto Marcinkus, te lo ricordi? Marcinkus! Fai un po' vedere la tua maglietta, benito che saluta, adesso abbiamo incentivato la bossalina, i cappelli, Gianni fai una bella ripresa, buona ripresa all'occhio, abbiamo fatto del ponte, comunque questa è qui, è qui la casa tua, vero? Sì, il mio padre, ci ospita, oggi tutti i sabati, ma oggi è domenica, sabato è domenica, sabato è domenica, sabato è domenica, sabato è domenica, domenica è colazione, mi hai detto che Giulio ha le mani d'oro, Giulio ha le mani d'oro, è quello di Veneto, quello di Luigi, quello di Giuseppe, non è il Cortese, è quello del Veneto, come si chiama? il Cartese, no, il Glera, il Glera fanno il Prosecco, è molto buono, del lago di Garda, è Custoza, è una delle quattro fortezze austriache, era sul lago di Garda in provincia di Mantua, te le ricordi le fortezze quali erano, tu che sei professore? adesso mi metto in difficoltà, me le ricordavo, San Marchio di San Cenetta, no, non me la ricordo, una era Custoza, l'altra era Mantua, quelle altre due? ormai che ci sei, hai cominciato, finisci tu, ecco le altre due che speravo che le sapesse, una era Verona, e l'altra, quell'ultima? Mantua, bravo, ma lei ha appena detto, l'ha detta, l'aveva detto, l'aveva detto, non aveva seguito il discorso, va bene, ti faccio, ti faccio un quiz, ti faccio un quiz, un uomo, senti, vediamo, vediamo chi lo sa, un uomo si lancia da un palazzo di 12 piani e si salva, come fa? Un uomo si lancia da un palazzo di 12 piani però si salva, come fa? Come fa perché invece del paracadute c'è lo zaino del boy scout? No, analizza bene la domanda, il trucco è nella domanda, il dodicesimo piano? No, io ho detto, un uomo si lancia da un palazzo di 12 piani e si salva, come fa? Col dito? Che si lancia dal piano terra, bravo, vedi? Alla testa analitica, sai che l'ho chiesto a tanti, tutti pensano 12 piani, dodicesimo piano, si lancia dal piano terra e si salva, non dice non si fa niente, si salva, al massimo si può rompere un bravo, che non ti puoi lanciare, beh ti rompi la gamba, se non sei capace, però ha senso, va bene, è venuto in mente adesso, attento al tonnello, attento a ciccio, no non ti faccio niente, sei da dammi, vai, ma te è meglio caricarti che riempiti, è meglio comprargli un abito che invitarlo a pranzo, dicono, ma devo dare un bacino a ciccio, ma devo dare un bacino a ciccio, ma non stiamo usando, vai a baciarlo, e non sculettare, non lo devi riprendere, Gianni lo devi riprendere, no no no, ti matto, no, no riprendilo, ieri ero alla vineria, è passato un ladyboy, non lo mette come sculettava col cagnolino, no no, si devo puoi cadere, stai qua, ha fatto il giro largo per non essere guardato, togli il culo di qua, dai Gianni, il massimo dell'erotismo, ha preso qualche pastiglia, ieri, ieri davanti alla vineria, Luigi, c'è un ladyboy, dai che passa tutti i giorni, sculettavano, donne e ladyboy dei paesi tuoi, va bene, va bene, va bene, va bene, ok, allora ci vediamo poi in un altro video, io questo qua che te lo metto anche su YouTube, ma va, su YouTube si, non mettono su Svegnati Alessandria, no, perché ti conoscono, ma dai, perché è intimo, personale, su YouTube, va bene, va bene, ok, no, a YouTube ci devono andare proprio a posto, invece svegliate Alessandria, lo vedono in tanti, è vero, questa è una cosa più privata, sì, è una festicciola privata, tipo quelle che facciamo il pomeriggio, alle, alle 6, no, che si potrebbero iniziare alle, alle 5, però, però, a preceptarvi, che mi va, che mi va aprire su, che mi va aprire su, allora, è stato, è logico che non viene, e mezza, allora, perché trovano, trovano sempre chiuso, e allora, tu, fatti vedere, aperto, eh, ma apro due ore al giorno, eh, no, è vero, è vero, se fosse aperto di più, eh, ma non c'è Poppi, ma no, io vado lì da solo, mi siedo, no, è, è colpa tua, però, eh, che non dovevi farlo andare via, Poppi, eh, no, no, mica sono io, lei che doveva andare, no, che gli lo vietavi, è finita lì, ah, va bene, perché adesso che, che vuole rientrare, eh, altro che, diciamo, potrebbe anche avere problemi, eh, eh, comunque, ti dico una cosa, ho visto turistico, glielo dà, sì, perché mi danno più la protezione, sì, 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 lì, 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 lì